Benvenuti su News Per Te. Ecco chi è Kia, la nuova cantante di Amici. Il pubblico è stupito, scopriamo il perché. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ti presentiamo Kia, il nuovo talento nel programma Amici. Nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, è stata scelta come allieva dalla coach Lorella Cuccarini, sostituendo Mew e Matthew. Kia non è nuova al mondo del talent show. Con il suo inconfondibile stile, eyeliner e lunghi capelli, l'abbiamo già vista in una sfida televisiva con Martina il 7 gennaio. Nonostante quella volta le cose non fossero andate a suo favore, Lorella ha riconosciuto il suo talento sin dai casting. Ora Kia è un membro ufficiale della più popolare scuola di talenti d'Italia. Originaria di Cagliari, in Sardegna, nata nel 2004, Kia ha il talento musicale nel sangue. I suoi genitori sono entrambi musicisti, la madre cantante e il padre uno dei primi DJ tech house della Sardegna. Kia ha studiato musica e suona la chitarra e il pianoforte. È pronta ad emozionare il pubblico. Dopo la sua sfida con Martina, nonostante sia stata sconfitta, ha dimostrato il suo talento artistico, esibendosi con Il genio del bene di Mina. L'addio di Matthew e Mew ha portato Kia a indossare la maglia bianca, emozionandosi in diretta televisiva. Lorella l'ha rassicurata, promettendole di lavorare insieme. Subito dopo aver realizzato di essere un concorrente ufficiale, Kia ha dato la lieta notizia alla madre. Gli spettatori non possono che augurare a Kia di brillare nella scuola più famosa d'Italia. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.